Per svariati motivi alcuni devono modificare file in pdf. Ti spiego in modo semplice e gratuito la procedura. Io uso tre programmi gratuiti il Paint di Windows, LibreOffice Writer e PDF Exchange Viver, ma potete usare benissimo qualsiasi programma gratuito. Ecco qui vediamo il nostro file in pdf che vogliamo aprire. Vogliamo eliminare questa scritta che non ci serve più. Scattiamo una foto. Foto scattata. Apriamo il Paint. Incolliamo la foto. Ora è una foto immagine. Cancelliamo la scritta che non ci interessa. Possiamo usare il cancelletto o altri metodi. Una volta cancellato selezioniamo tutto e copiamo. Apriamo LibreOffice o Word o qualsiasi altro programma e incolliamo tutto. abbiamo incollato e la scritta non c'è più. Salviamo il lavoro come file pdf. Salviamo sul desto. lo chiamiamo prova. Salva. Chiudiamo tutte le finestre o se uno vuole può anche salvarle. Ed ecco qui il nostro file in pdf. Se lo apriamo vediamo che la scritta è scomparsa e il file è in pdf. L'altro file, quello precedente, invece presenta ancora la sua scritta. E questo è tutto.